Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito Gianluca Rossi.it, ho appena finito di commentare in questa non aggiornata di campionato due partite, la partita dell'Inter al Mapei Stadion di Reggio Emilia, vinta dai Nerazzurri per 3-0, sì avete capito bene per 3-0 e il pareggio della Juventus a Benevento, sorprendente. Adesso non venitemi a dire che vi aspettavate questi risultati perché ogni tanto io i commenti li leggo e qualche sera fa eravamo giustamente, io per primo tutti persuasi che l'Inter avesse imboccato la strada della crisi. Allora dico subito che una vittoria pulita, chiara, netta, giocando finalmente con la testa ecologica come quella che l'Inter ha ottenuto in casa del Sassuolo che vorrei ricordare era la seconda forza del campionato, non è che deve essere vissuta come una svolta, ho già spiegato che per i disastri che abbiamo combinato tutti insieme quest'anno ne servono almeno 4-5 di partite giocate così. Eppure però la classifica oggi, lo dico soprattutto a quelli che cambiano idee ed opinioni in base a una semplice giornata di campionato, magari ogni 90 minuti, oggi al momento è una giornata straordinariamente favorevole all'Inter, se è vero che sta ancora in piedi il discorso sul lungo periodo tra Inter e Juventus. Ricordiamo che la Juventus ha tre punti in classifica ottenuti secondo me legittimamente come sapete a tavolino contro il Napoli e però non sono stati tre punti, probabilmente magari li avrebbero tenuti sul campo ma magari no e quindi il fatto che l'Inter adesso sia tornata in una situazione di classifica diciamo di vertice, perché questo è nel momento in cui parlo, devono giocare ancora gli altri, bisogna capire la Roma, però insomma la posizione di vertice se non altro rispetto a qualche settimana fa mi sembra acclarata. Siamo nei giorni in cui qualsiasi cosa che fa Conte, qualsiasi cosa che dice Conte non va bene, però ragazzi se proprio non siete in mala fede, abbaccinati ormai orbi dal tifo comeinista, per cui piuttosto che vada a catafascio l'Inter piuttosto che dare una soddisfazione a quell'ex Juventino di Antonio Conte, ecco se non siete così in mala fede dovete convenire con me che la partita a Reggio Emilia, insomma, sia rivista all'Inter, che credevamo di vedere per tutto questo campionato, che ha unito prestazione e risultato, poi che non giochi in maniera splendida l'Inter, credo che nessuno giochi in maniera straordinaria in questo campionato per lo meno con una certa continuità. Non si è preso gol e questo è importante, visto che vorrei ricordare per l'ennesima volta il dato che ci vede aver subito 20 gol nelle prime 12 partite, questa era la tredicesima partita, finalmente siamo tornati a non prendere gol e io non ho mai avuto la sensazione che questa partita, finalmente una sensazione che non provavo da tempo ci potesse sfuggire di mano. Partita risolta in pratica nel primo quarto d'ora tra Sanchez e Vidal e non sono contento per Vidal, anzi mi incazzo ancora di più nel vedere il Vidal che ho visto in campo contro il Sassuolo perché poi ripenso al Vidal che non ho potuto vedere per due terzi di partita per colpe esclusivamente sue con il Real Madrid che era una partita, parliamoci chiaro, molto più importante perché mentre il campionato, e lo sta dimostrando, ti dà diverse occasioni di poterti riavvicinare, di poter rientrare in corsa, ecco io credo che la partita invece con Real abbia messo al momento una pietra tombale perché è giusto che sia così. Sull'Inter che è obbligata in Champions a vincere due partite e a sperare poi che Real Madrid batta il Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, so già che i più pessimisti di voi vedranno questa partita come un episodio, adesso a Mönchengladbach l'Inter ritornerà quella che abbiamo visto nelle prime giornate, però ragazzi se è ancora vero quello che molti addetti ai lavori dicono, poi magari non sarà vero, ma che alla fine Inter e Juve sono le squadre più attrezzate sul lungo periodo, è una giornata positiva questa con tutti i problemi che abbiamo avuto e io ho commentato anche la Juve essere tornati davanti alla Juve in un momento come questo, in cui diciamo la verità abbiamo fatto delle partitacce e invece questa partita l'abbiamo portata a casa molto bene devo dire, senza correre neanche troppi rischi, consentitemi di dire che i Gagliardini che qui odiate non so per quale motivo, che cosa vi abbia fatto, nessuno pensa che Gagliardini sia uno dei primi dieci giocatori del mondo o della storia dell'Inter, ma mi sembra che è un centrocampista che ogni tanto trova il gol, ogni tanto se ne mangia di incredibili, ma comunque ha fatto un gol meraviglioso, ragazzi stop con un piede, tiro poi di controbalzo con l'altro piede ed è il gol che ha chiuso, ha messo davvero la parola alla fine ha calato il sipario sulla partita a Reggio Emilia contro il Sassuolo, insomma abbiamo magnificato giustamente il Sassuolo, io magari un po' meno perché non è che mi faccia poi così impazzire De Zerbi, ma per carità di Dio poi ci sono allenatori che hanno buona stampa e allenatori che non riescono ad avere buona stampa, sicuramente Conte nei rapporti e lo abbiamo poi sentito anche a fine partita, però è così strano questa avversione che avete per Conte da un certo punto di vista, perché Conte poi dice le cose che voi dite sempre, che l'Inter è penalizzata, che c'è una lobby quasi contro l'Inter, tanta negatività che verrebbe da noi media, io poi su questo non sono mai stato d'accordo perché se sei forte, negatività o meno vinci comunque, ed è strano che voi percepiate Conte come un corpo estraneo, lo capisco per il passato juventino, per carità di Dio, però dice delle cose che sono molto interiste, se, ripeto, essere interisti significa vedersi sempre soli contro tutti, con le spalle al muro e Conte sembra quasi tornato lui, anche nelle dichiarazioni del dopo partita, forse perché ha vinto per carità, poi dopo domani anche in panchina continuava ad agitarsi, anche sul 3-0 continuava a caricare i suoi, ripeto mi verrebbe da dire partita della svolta per quello che ho visto, ma soprattutto per l'Antonio Conte grintoso che ho visto, non mi viene da dirlo perché l'Inter non se la merita, non si merita che io dica partita della svolta, perché ripeto per svoltare mi devono mettere in fila almeno 4 o 5 partite come questa, però ragazzi evidentemente è stato un avvio di stagione molto complicato, ma non solo per noi e qui vengo alla Juve anche per la Juventus, perché la Juventus che ha cambiato allenatore francamente, adesso l'Inter con tutti i suoi difetti a Benevento è andata a vincere 5-2, che la Juventus con la scelta addirittura di Ronaldo di dire no questa non la faccio, faccio le altre di CR7 e forse dobbiamo cominciare a pensare che se la Juventus vuole vincere il campionato ed è giusto che venga considerata ancora la favorita, ha bisogno di Cristiano Ronaldo, prima avevi l'impressione di averne bisogno per crescere in Europa, per andare a vincere la Champions, oggi sembra che la Juventus, perché ripeto l'ho vista, l'ho commentata, abbia davvero bisogno di un uomo come, perché Di Bala evidentemente non basta e Morata non è che può sempre fare il gol come, già perché poi ci siamo dimenticati del Fenerbahos, dove comunque la Juventus ha portato a casa la vittoria grazie al colpo in estremis di Morata, quante volte l'Inter non è riuscita a portare a casa in estremis una vittoria, sto pensando al Parma con quel rigore tremendo non dato a Perisic, non lo so forse dovremmo un pochino rivedere questi giudizi così assolutisti, sicuramente torno a dire perché qualcuno qua sotto quando lo leggo non capisce, io penso di esprimermi in un buon italiano, poi magari non tutti hanno gli strumenti culturali e dialettici per capire, io non è che dico che siccome si è rimontato col Torino, la squadra è con Conte e poi con Real Madrid, siccome erano in questo modo allora la squadra sia contro Conte, non cambio come alcuni di voi dia ogni tre giorni, io ho soltanto detto che questa squadra è sconvolta, è lenta, confusa e insicura psicologicamente per la situazione che si sta vivendo, perché poi a fine partita odierna ancora Conte è un pochino tornato sul fatto che anche in società non ha l'impressione che si remi tutti dalla stessa parte, quindi ragazzi restano i problemi, i problemi di rapporti, perché è indubbio, ma io vorrei ricordarvi che le cose che dice Conte, per cui sembra non essere mai contento, perché vorrebbe decidere tutto lui, esistevano anche quando siamo arrivati soltanto 3-4 mesi fa in finale di Europa League, quindi non è vero che se non c'è la massima armonia, il volemose bene, non si possa comunque ottenere dei risultati. Oggi è stata una giornata in cui recuperiamo una certa Inter, perché l'abbiamo recuperata, anche se a qualcuno che si professa interista questo non piacerà e credo ci sia quasi una lobby ormai, perché ancora ci saranno una lobby per magnificare Eriksen che non ha giocato, si è vinto anche con Eriksen che è entrato negli ultimi minuti, questa idea che Eriksen venga continuamente umiliato dall'allenatore, non lo so, ed è una cosa che probabilmente fa invece, sì non gli piace, ragazzi non gli piace, si è sbagliato il colpo di mercato, doveva essere un colpo di mercato a gennaio si è sbagliato, ma giocando senza trequartista mi pare che si è battuta la seconda forza del campionato, quindi la vita non finisce ad Eriksen come non finisce ad Antonio Conte, attenzione, l'Inter non finisce ad Antonio Conte ma non finisce neanche ad Eriksen, quindi adesso ripeto, calmi, non è la partita della svolta, ne occorrono molte altre, io parlo del campionato di Champions, non voglio neanche parlare perché secondo me, ma neanche con un, altro che miracolo per restarci dentro e quindi quella la metto in preventivo che sarà la grande delusione già ora, però anche gli altri hanno i problemi, anche la Juventus ha dei problemi, vi invito quindi tutto sommato a rivedere magari qualche giudizio un pochino affrettato, se volete, se non volete andate avanti per la vostra strada, per me come sempre viene prima l'Inter, prima l'Inter di qualsiasi opinione, prima l'Inter con i suoi risultati e oggi è stata una giornata positiva perlomeno in anticipo, poi vediamo cosa accadrà con le altre partite e con gli altri, ciao a tutti, viva l'Inter!